Siamo qui presso la Camera del Lavoro CGL di Mazzara del Vallo, siamo con Salvatore Tripi, lei è responsabile regionale della FLAI, qui a Mazzara per dibattere sulla legalità, in quanto la scorsa settimana sappiamo che vi è stato un furto proprio in questa sede. Di che cosa discuterete in particolare? Ma intanto vogliamo dire che la Camera del Lavoro di Mazzara ormai spesso è vittima di questi furti. Vogliamo dire due cose, uno è i ladri che non fanno solo un danno alla CGL, alla Camera del Lavoro di Mazzara, ma lo fanno ai lavoratori, noi qui diamo assistenza e servizi ai lavoratori, ai pescatori, ai pensionati, ai disoccupati, quindi quando si colpisce un simbolo come la CGL si colpiscono le fasce sociali deboli. L'altra cosa è che chiediamo una maggiore vigilanza perché ormai gira e rigira la Camera del Lavoro è vittima di questi furti. Siamo qui per discutere e dibattere per queste cose, chiederemo una maggiore vigilanza alle forze dell'ordine e faremo in modo che immediatamente i lavoratori e tutta la cittadinanza che si rivolge alla CGL di Mazzara non ha che soffrire dei servizi che forniamo e quindi siamo qui per ripristinare immediatamente l'efficienza e i servizi che dà la CGL di Mazzara. Vito Ciulla, coordinatore regionale dell'Inca, qui a Mazzara del Vallo oggi alla Camera del Lavoro della CGL appunto per focalizzare il problema della legalità. Sì, noi il 25 gennaio scorso a livello regionale abbiamo fatto un'iniziativa dal titolo Dritti individuali, tutela individuale, dritti e legalità. Su questo l'abbiamo voluto costruire questa iniziativa perché attorno alla tutela individuale molto spesso ci sono, ruotano dei faccendieri, molto spesso ruotano personaggi che fanno le fortune sulle disgrazie degli altri. Oggi siamo qui a Mazzara ovviamente per rimarcare questo tema sulla legalità. Legalità dove in una sede che è stata colpita, colpita non soltanto la CGL ma i lavoratori. Noi rappresentiamo quella fascia più debole che sono i lavoratori disoccupati, i pensionati, i lavoratori precari. Abbiamo messo a disposizione nelle nostre sedi i servizi, l'Inca per eccellenza è erogatore di servizi e tutela individuale. Ora quando vengono a rubare le attrezzature informatiche non mettono in difficoltà la CGL, mettono in difficoltà i lavoratori perché in questo modo non siamo messi nelle condizioni di poter appunto dare queste risposte. Ora io non penso che si tratta semplicemente di un furto, io sono convinto che si tratta effettivamente di un attentato alla democrazia, un attentato ad una struttura che vuole rappresentare i dritti dei lavoratori. Chiediamo maggiore vigilanza, chiediamo che le forze dell'ordine possano intanto indagare per vedere da dove e perché succedono queste cose. Mi riferisco a tutela della CGL ma tutela principalmente dei lavoratori.